Hai mai avvertito un'energia negativa che sembra persistere nella tua casa o nella tua vita? Ti sei mai chiesto se esista un modo per liberarti da maledizioni o influenze oscure che ostacolano il tuo benessere? Se la risposta è sì, allora sei nel posto giusto. Rimani con noi fino alla fine del video perché oggi ti sveleremo quattro parole magiche antiche, un vero e proprio segreto per eliminare le maledizioni e proteggere te stesso e il tuo ambiente. Prima di cominciare ti invitiamo a iscriverti all'Accademia di Crescita Personale numero 1 in Italia che trovi in descrizione per iniziare oggi stesso il tuo percorso verso il benessere e la pace interiore. Cominciamo. Le maledizioni hanno un'origine molto antica e sono presenti in molte culture e tradizioni spirituali in tutto il mondo. Si ritiene che una maledizione sia una forma di energia negativa o malefica inviata deliberatamente da una persona o un gruppo di persone. Questa energia negativa può essere indirizzata verso un individuo specifico, una famiglia, una proprietà o persino una comunità intera. Le maledizioni possono essere emesse verbalmente attraverso incantesimi, formule magiche o rituali o possono essere inviate mentalmente con l'intenzione malevola di causare danni. Il loro effetto può variare notevolmente, ma spesso si crede che portino sfortuna, malattia, tragedie o altri eventi negativi nella vita delle persone colpite. Le persone che si ritengono vittime di una maledizione possono sperimentare una serie di sintomi fisici, emotivi e mentali, come ansia, depressione, malattie improvvise, incidenti o sfortuna finanziaria. Inoltre, le maledizioni possono influenzare la vita quotidiana delle persone, causando problemi nelle relazioni personali, sul lavoro o persino nella sfera sociale. Tuttavia, è importante notare che l'efficacia delle maledizioni dipende in gran parte dalla credenza e dall'energia delle persone coinvolte. Coloro che credono fermamente nell'esistenza e nel potere delle maledizioni potrebbero sperimentare effetti più pronunciati, mentre coloro che non credono potrebbero essere meno suscettibili ai loro impatti. Per affrontare le maledizioni, molte tradizioni spirituali offrono pratiche di purificazione, protezione e guarigione. Queste pratiche possono includere rituali, incantesimi, preghiere, meditazioni o l'uso di oggetti sacri o amuleti. L'obiettivo di queste pratiche è neutralizzare l'energia negativa delle maledizioni e ripristinare l'equilibrio e la positività nella vita delle persone colpite. In sintesi, le maledizioni rappresentano una parte intrigante e complessa della spiritualità umana, con profonde radici nella storia e nella cultura di molte società in tutto il mondo. La loro presunta esistenza continua a suscitare interesse e dibattito, mentre le persone cercano di comprendere e affrontare il loro potenziale impatto sulla vita umana. Un caso famoso di presunta maledizione è legato alla scoperta della tomba di Tutankhamon, il giovane faraone egiziano. Nel 1922 l'archeologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon nella valle dei Re. Poco dopo la scoperta si diffuse la voce che una maledizione avesse colpito coloro che avevano violato la tomba. Si diceva che coloro che avevano partecipato alla scoperta o all'apertura della tomba fossero stati colpiti da sfortuna, malattie o morte prematura. Successivamente, poco dopo l'apertura della tomba, avvenne la morte improvvisa di Lord Carnarvon, finanziatore della spedizione. Anche se molte delle morti e delle disgrazie attribuite alla maledizione possono essere spiegate razionalmente, il caso ha contribuito a consolidare l'idea della maledizione di Tutankhamon nella cultura popolare. Un altro caso ben noto di presunta maledizione è legato alla tomba di William Shakespeare, il celebre drammaturgo inglese. Sulla tomba di Shakespeare, situata nella chiesa della Santissima Trinità a Stratford, a Ponavon, è incisa una maledizione che avverte chiunque osi disturbare le sue ossa. La maledizione recita «Buon amico, per amor di Gesù, astieniti dallo scavar via la polvere qui racchiusa. Benedetto l'uomo che rispetti queste pietre e maledetto colui che rimuova le mie ossa». Anche se non esistono prove concrete che questa maledizione abbia avuto effetti reali, è divenuta una parte intrigante della leggenda di Shakespeare e ha alimentato numerose speculazioni e teorie nel corso dei secoli. Ma come si manifestano le maledizioni? Le maledizioni possono manifestarsi in una varietà di modi, influenzando diversi aspetti della vita di una persona. Ecco sei maniere comuni in cui possono presentarsi. 1. Sfortuna costante. Una persona che è stata maledetta può sperimentare una serie di eventi sfortunati che sembrano verificarsi in modo persistente e continuo. Questi eventi possono includere perdite finanziarie, problemi di salute, fallimenti personali o difficoltà nelle relazioni. 2. Problemi di salute fisica o mentale. Le maledizioni possono manifestarsi attraverso problemi di salute fisica o mentale che sembrano inspiegabili o difficili da trattare. Questi possono includere malattie croniche, dolore persistente, depressione, ansia o altri disturbi emotivi o cronici. 3. Relazioni interpersonali problematiche. Le maledizioni possono influenzare le relazioni interpersonali di una persona, causando conflitti costanti, litigi o rottura dei legami familiari e amicali. La comunicazione può diventare difficile e possono verificarsi tensioni costanti con le persone intorno. 4. Sfortuna finanziaria o professionale. Le maledizioni possono portare a sfortuna finanziaria o problemi nel lavoro o nella carriera. Una persona maledetta potrebbe sperimentare difficoltà nel trovare lavoro, essere licenziata o incontrare ostacoli significativi nel perseguire i propri obiettivi professionali. 5. Eventi inspiegabili o tragedie. Le maledizioni possono portare a eventi inspiegabili o tragedie nella vita di una persona, come incidenti gravi, morti premature o perdite significative. Questi eventi possono sembrare accadere senza motivo apparente o causa evidente. 6. Sensazioni di malessere o oppressione. Una persona maledetta potrebbe sperimentare sensazioni di malessere generale o oppressione, come se fosse costantemente sotto un peso o una pressione invisibile. Questo può influenzare il suo benessere emotivo e mentale, causandole ansia, depressione o stress. Questi sono solo alcuni esempi di come le maledizioni possono manifestarsi nella vita di una persona. È importante notare che le manifestazioni possono variare da persona a persona e dipendono da una serie di fattori, come la natura della maledizione, la sensibilità individuale e la propria credenza nel concetto di maledizione. Ora è il momento di immergersi nel rituale delle quattro parole magiche. Ti guideremo attraverso ogni passaggio, spiegando l'importanza di ogni parola e come usarle per eliminare le maledizioni e proteggere te stesso e la tua casa dalle energie negative. Seguiremo il rituale passo dopo passo, fornendo consigli pratici e suggerimenti per massimizzare l'efficacia del processo. Il rituale di purificazione con le quattro parole magiche è un processo antico e potente utilizzato per eliminare le maledizioni e proteggere uno spazio o una persona dalle energie negative. Questo rituale coinvolge l'uso delle quattro parole magiche, Abla, Got, Bata, Bleu, ciascuna associata a un punto cardinale e viene eseguito stanza per stanza per purificare l'intero ambiente. Nel contesto del rituale queste parole sono considerate magiche in quanto rappresentano le energie positive e protettive associate ai punti cardinali Nord, Sud, Est e Ovest. Quando recitate durante il rituale si crede che queste parole agiscano come catalizzatori per la purificazione e la protezione dello spazio. Spesso, nelle pratiche magiche, le parole stesse non hanno un significato letterale, ma derivano il loro potere e la loro efficacia dall'intenzione e dalla pratica rituale. Quindi Abla, Got, Bata e Bleu non hanno un significato specifico nel linguaggio comune, però assumono un significato sacro e potente all'interno del contesto del rituale di purificazione. Ecco una spiegazione dettagliata del rituale in cinque passi. Passo 1. Preparati. Prima di iniziare il rituale, assicurati di essere in uno stato mentale tranquillo e concentrato. Accendi una candela o dell'incenso per creare un'atmosfera di tranquillità e sacralità. Passo 2. Identifica i punti cardinali. Entra nella stanza che desideri purificare e identifica il nord, il sud, l'est e l'ovest. Puoi utilizzare una bussola o intuire la direzione basandoti sulla posizione del sole o su altri punti di riferimento nella stanza. Passo 3. Recita le parole magiche. Posizionati al centro della stanza e rivolgiti verso il nord. Pronuncia la prima parola magica Abla, visualizzando la luce bianca che purifica lo spazio intorno a te. Poi girati verso il sud e recita la seconda parola magica Got. Continua questo processo per l'est e l'ovest, recitando le parole magiche Bata e Bleu, associate a ciascun punto cardinale. Mentre reciti le parole magiche e ti rivolgi a ciascun punto cardinale, visualizza la luce bianca che purifica e protegge lo spazio circostante. Focalizza la tua intenzione sull'eliminazione di qualsiasi energia negativa e sulla creazione di un ambiente di pace e armonia. Passo 4. Ripeti in ogni stanza. Ripeti questo processo in ogni stanza della casa o dello spazio che desideri purificare. Anche se una stanza è piccola o non utilizzata frequentemente, è importante purificarla per garantire una protezione completa e uniforme. Passo 5. Concludi il rituale. Dopo aver recitato le parole Abla, Got, Bata, Bleu in ogni stanza della casa, procedi con un'unica formula magica al centro, indipendentemente da dove si è rivolto il tuo sguardo. Pronuncia Os non Cominuetis Ex Eo. E con un leggero aumento di tono, ripeti Os non Cominuetis Ex Eo. Infine, per la terza volta, con un tono più deciso, ripeti Os non Cominuetis Ex Eo, il cui significato latino è non spezzerai neanche una delle mie ossa. Questa formula di origine biblica è pensata per proteggere persone, case e tutto ciò che è tuo. Dopo aver eseguito questo rituale, puoi considerare la tua dimora libera da maledizioni e al sicuro da futuri influssi negativi. Una volta completato il rituale, ringrazia le forze divine che ti hanno assistito nel processo di purificazione. Senti la gratitudine per la luce e la protezione che hai instaurato nello spazio intorno a te. Per concludere, se lo desideri, puoi posizionare una candela in una o più stanze della casa come segno di gratitudine. Inoltre, bruciare dell'incenso attraverso le stanze della casa può essere un ulteriore metodo di purificazione. Esistono molteplici pratiche di pulizia energetica, ma con queste semplici e potenti tecniche che ti abbiamo fornito oggi, la tua casa sarà protetta e avvertirai un senso di pace e sicurezza immediato. È giunto il momento di manifestare la magia nella tua vita. Questo rituale può essere personalizzato in base alle tue preferenze e alla tua pratica spirituale. È importante eseguirlo con sincerità, consapevolezza e intenzione positiva, poiché ciò amplificherà la sua efficacia nel creare un ambiente di armonia e protezione. E tu? Ti sei mai chiesto se le maledizioni siano una realtà tangibile o solo un prodotto della nostra immaginazione? Cosa ne pensi della magia e della spiritualità nel nostro mondo moderno? Vogliamo conoscere la tua opinione nei commenti. Se questo video ti ha ispirato, lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram. Inoltre, ti ricordiamo di accedere all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare da oggi il tuo cambiamento verso una vita più calma e consapevole. Grazie per aver visto. Ci vediamo nel prossimo video.